ciao allora benvenuti in un nuovo video fatemi sapere se il microfono è messo bene acceso tutto a posto allora sono stata da digota e ho trovato un po di novità di essence e allora ho detto no le novità le devo prendere assolutamente magari ora che sono arrivate da me saranno già più o meno vecchie però al momento sono reperibili in negozio ho detto no devo provare assolutamente e parlarvene non ho trovato tantissime cose ma queste ho visto che erano nuove e ho detto va bene proviamole e guardiamole allora partiamo con qualcosa che non è make up che può essere una gran generata o una cavolata questo è l'idro hero stick contorno occhi effetto idratante e decongestionante piccino piccino è un 4,5 grammi ed è fatto così in gel trasparente senza profumo e da un effetto fresco si sente appena appena sulla pelle forse quando bene al mattino prima del trucco o come trattamento serale beh idratante decongestionante magari anche alla mattina proveremo ero curiosa poi sempre sul make up ho trovato questa e ho detto no questa la devo provare però posso sbagliato il colore non me ne sono accorta questa è la micro precise da 1,5 mm slim e i brown pensi quindi una matita da 0,5 grammi water proof super super sottile e qui parliamo proprio di super super sottile non per fare tutte le sopracciglia ma per fare per il tuo appello a pelo no vabbè stupende stupendo 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 e oltretutto sembra waterproof quindi da provare allora più io parlo forte più già è uscita a telefonare mi ha visto quindi potrà tranquillamente farlo in casa più io parlo forte più lei parla forte rifarete gli affari dei vicini poi andiamo avanti kiss by light il polvere illuminante 10 grammi questa è la molti uso illuminante e volevo il colore 01 star kiss by light mi piaceva tanto la forma perché mi ricorda un po un sole con i raggi a voi cosa ricorda non lo so bella 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 davvero illuminante ed ha anche un po di colore carina poi possiamo prendere magari solo la parte sotto che è un illuminante dorato che dà appena un pochino di colore con mescelato al rosa che più da blush un blush colorato con anche un po di terra da miscelare a vedere e provare ora cerco una salviettina perché mi sembra il caso ok ok e abbiamo il magic all in one face cream il t look in five second dovrebbe andare a uniformare l'incarnato con un s spf 10 vediamo allora super particolare a tanti granelli all'interno usi guardate rilascia colore rilascia colore quindi eccoci qua bello se ne mettevo meno si capiva meglio ma comunque lo stiamo sfumando bene allora è abbastanza chiaro ma si sfuma bene e va a idratare e uniformare l'incarnato direi che quando non ci si trucca si applica questo adesso aspettate usa la mano intera così si stende meglio eccoci qua quando non ci si vuole truccare ed è questa una crema colorata idratante adatta a tutte le carnagioni non quelle troppo scure perché ovviamente il colore è da medio da chiaro a medio forse un po' idratante per la mia pelle mista ma con una cipria colorata magari leggermente colorata ci sta e facciamo una bella base make up senza ed è dover andare utilizzare fondotinta e correttori ed è perché si inizia a fare un pochino caldino ed è oltre ad avere caldo io non reggono neanche sulla pelle ultimo prodotto che ho trovato benvenuti a roma questa è una palette che potevo aprire ma apriamo adesso ecco fatto con lo specchio ma noi lo abbassiamo mi sembrava carina ma adesso la svociamo e lo scopriremo assieme ho scolato uno ma adesso lo faccio il secondo è davvero molto carino molto molto carino poi andiamo avanti questo è l'unico doppio ha una texture cremosa sapete che mi piace fare le svoce all'aperto perché uno c'è la luce naturale due e preferisco faccio prima faccio prima fare tutto qual'è quello ok quello doppio quello doppio questo quello dorato ci sta e ora con gli ultimi quattro di cui c'è anche un verde menta è un verde bosco ok bel verdone e un marrone opaco bello al primo allora gli opachi non sono il massimo della vita ne ho visti di meglio il primo che questo qui molto bello bello luminoso molto molto carino allora dunque direi che sono abbastanza soddisfatto dei miei acquisti perché ho trovato cose interessanti la palette non è neanche troppo polverosa rispetto a tante altre che abbiamo trovato di essenza bella pigmentata buona scelta colori ci sono degli shimmer davvero interessanti gli opachi sono adatti un po a tutto ok ci sta potrei anche ritoccare il make up finché ci sono e niente allora queste erano le poche cosine che ho trovato perché non ce ne erano tantissime ma erano delle novità carine che mi incuriosivano e ho avuto il piacere di provare fatemi sapere voi quale vi incuriosisce di più quale vi interessa di più se avete trovato questa palette so che ce n'era anche un'altra non mi ricordo di quale città ma non non l'ho trovata penso Miami non l'ho trovata però e niente quindi fatemi sapere come sempre tutto quanto e quindi l'info box spero di avervi tenuto un pochino di compagnia che questo video vi sia piaciuto portate pazienza per il tutto il resto ma se non avessi acceso la telecamera nessuno avrebbe parlato appena l'ho accesa e se è detto che parlavo ed è leggermente apposta nessun problema e ci sia adatta tranquillamente e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti